e salve a tutti gente qua gingei chi parla e ci sono qui con un nuovo episodio di yoshis news island registrato sempre con una capture wireless tanto per dire e oggi sono qui per andare avanti sempre con il mondo 1 partendo da 15 sali 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 ok è il secondo lag perché ne hanno cambiato colore a questi bene i sniffi wow questi di solito non ci sono fino a fine gioco già mi mettono gli sniffi ok ah dio che sbaglio su quel pulsante ok perché tutti questi non dimmi che devo scegliere quello giusto te prego oh se è così l'ho scelto beh io vedo che le nuvole lì finiscono quindi probabilmente quelli ultimi da colpire grazie tutti i collezionabili ok no mangialo ciao la geek è un pochettino di più della scorsa puntata dannazione grazie a tutti grazie a tutti come sono entrato non so eh vabbè to vabbè ok forse potrei dire che i livelli sono anche più corti del primo Yoshi's Island 26 ahhh e dov'è dov'è quell'ultimo fiore dov'è quell'ultimo fiore l'abbiamo preso appena prima l'ho sposto qui va bene questo gioco ha già problemi con i fiori sono... non si trovano vabbè ok tralasciamo a quanto pare però quello che probabilmente sarà un nuovo collezionabile è ottenere nella slot finale il fiore per ottenere quelle monete d'oro ogni volta ok ok livello 1-6 ehm... sfavolimento... ok non me lo far leggere mi raccomando ok stanza in cui devo ammazzare tutti vediamo se è confermata la mia ipotesi credo di sì ehm... queste uova i nemici rilasciano diverse cose secondo il colore dell'uovo con cui le colpisci oh va bene oh giusto questa uova qui nooo cacchio ho fatto cacchio ho fatto se non sbaglio nello shesayan originale c'erano e quando uscivi e rientravi dalla porta respawnava l'uovo che non è colpito vero? se no sono fottuto eh non è respawnato grazie non fare quella schifezza del dottor nello schermo per favore ok ok che bello di un banale eh... girasole nooo volevo fare un gran pall ma ho qualcosa in bocca wow nooo grazie qua c'è roba bella nascosta nooo ah grazie ed era una volta Beh beh Ho colpito stavolmente Stupida moneta Ti prego di mica non essere una moneta rossa Io ti ignoro Non dovresti essere diventato una stella E? No eh Ok No Voi dagli usciti Siete odiosi Come non so cosa Per favore Ditemi che non Non vi hanno anche qua Ober Usato Tra l'altro Non mi sono ancora accorto Se questo gioco Ha un respawn Di schifo o no Come ce l'aveva Io ucciso l'Alan DS Fammi vedere sotto Please Anche qui Senza il doppio schermo Sembra strano adesso Il doppio schermo Sfruttato L'uomo Io ucciso l'Alan DS No Ma lì Quanto pare adesso Hanno un loro respawn Cioè Un loro Modo di spawnare Ok Ora bisogna vedere Spawn schifoso Che voglio uscire L'Alan DS Sì ma non così Ok Sembra essersi stabilizzato La cattura Per fortuna Ora che l'ho detto Succederà il mondo intero Ok No Ok È sempre Pianta di visagri C'è pagioli Non me lo è Non sono vegetariano Scusate Ok Le foglie fanno questo Quanto pare Se ci stai da un po' lungo 30 ci sono Anche qui siamo alla fine Oh Fiori presi tutti Cavolo Le monete rosse SED Mancavano solo quelle Potrebbe essere Il primo livello 100% Lasciamo che Il primo livello In assoluto Ho mancato una sola monete Perché mi hanno trollato Il gioco Vabbè Non mi aspetto Che debba stare attento A già Il primo livello Sapete Ok 1-7 Schianta che ci passi Quanto è buffo Vederli in 3D Adesso Sti cosi Totalmente Ok Abbiamo già L'abilità Di BBD Che è installata Nel gioco Noo Ti ho visto anche te Mal detto E se Pinquetante Di prima Ce n'è uno Ogni due secondi Fossero visibili Ma sono tutti invisibili Voglio entrare in tubo O coso So che col tubo Il misterioso Ma facciamo prima questo Nel caso Poi mi parti Una parte più avanti Ah Non mi spawnare in faccia E cade anche sto qui Vabbè Andiamo dentro il tubo Adesso Se effettivamente Ecco cosa Che possiamo entrare Sì E tu guarda E tu guarda agita quelli con i trampoli. Come va bene adesso? Ah, la stella? Giusto, in questo gioco è un po' diversa la cosa. Prendi una Yoshi stella per diventare super Yoshi e correre sui muri e soffitti. Ah, i soffitti, ok, scusa. Con Yoshi stella rossa puoi sfondare i muri e buttarti giù i nemici come un razzo. La stella rossa è tipo un finale, ma comunque sì, adesso non è più una cosa esclusiva di Baby Mario. Baby Mario quindi non fa più un cavolo. Ho già dimenticato quello del pulsante e salto. Se devo salpare alla fine. Eh, come? Ci arrivo a dove devo arrivare? Cioè a ritornare alla stella? Sì. Vediamo se risponde in questo gioco. Sì risponde, ok. Ho fatto in tutti gli altri giochi, sì, ma da questo gioco potrei rispettarmi altro. Fail. No, non iniziano la gara. Tu so che stiamo facendo un momento un po' rapido però. Ma che fa? Ma che cavolo sta andando? Eh dai ti è spawnata. Sembrano proprio faticoso usare sta stella. Ok, era normale. Eh sì. Sì, questo qua è chiaramente come funziona alla fine, però chi cacchio se ne ha accorto? Spero che in queste fasi non ci saranno monete rosse perché sarà un incubo di ce la prendere, dato che non ti fa neanche tornare indietro. C'era qualcosa che mi sarei potuto perdere dall'altra parte? Ah sì, effettivamente siamo entrati. No, niente. Non era un tubo extra in quello a cui siamo entrati. C'è un'altra parte. C'è un'altra parte. Ok C'è quel fiore lì Perché me lo tisi così Che cosa fai C'è tipo così Oh ok Tutti i fiori Sì tre monete rosse Ti prego dimmi che non erano In quella sezione Lì di sicuro ce n'è una Almeno Speriamo No neanche una Ok ce la siamo persa Farò un'altra sezione segreta qui Prego Una sola Dai Erano stelle Quello non è il possibile che era una moneta rossa Non è il fine livello No 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 Dai Il primo gioco di Yoshi qui non sento naturale dove cavolo si trovano le fottute monete rosse Però questo dovrebbe assicurarmi comunque che non è in quelle sezioni a razzo di Yoshi no Speriamo Dannazioni 99 su 100 I migliori testi di matematica che escono Ok livello 1-8 Castello di fagiolozio Castello di fagiolozio Ok Che cacchio sono Dimmi che non è una collisione queste pedane Ma grazie Dai Mi sta malapena dando uova a sto castello Please Mi sento in una situazione tipo Yoshi della NDS Basta Non ho uova Gioco Da Qua mi perdo un sacco di roba Ah grazie Ma molto gentile Proprio ora che non posso tornare indietro E prendile sto uovo No non posso Aspetta ma Per la morte del gioco Eh dall'inizio ho già Però avevamo preso un checkpoint No no Bene signor fagiolo Mi sa che ti devo mangiare A questo punto Ci sono le uova contate Per i primi tre cosi Ora per la chiave Sappiamo cosa farmi Più o meno Ok Grazie Grazie Che chiave sia Posso mangiarlo a questo tipo Posso mangiarlo a questo tipo No Qui è prendi più che puoi Finché puoi Devo stare attento a non usarli tutti In una volta E ne ho già premuti due alla volta Ma va a quel paese Beh direi Non volevo neanche scendere così subito Però Almeno un fiore Ok Ok Mi ho preso tutto Ho la ghicchia Ma vai Siamo in castello finale Dai Vedi questo mod Ah ah Nascosto c'è altro Lo so Tu E Ah ah Prezzo un fiore Sì Mi sa Beh che dire Almeno la musica del castello È già un po' più Drammatica Rispetto A quella di Yoshi's Island DS Sappiamo che dobbiamo andare fino in fondo Ma non ammazzarci così come un cretino Calma No Ok Fiu Dai Fagioli Vieni qua Mangia i fagioli Ok In questo gioco Le entità non attivano quelle pedane Ci sono in certi giochi in cui lo fanno Non ricordo Yoshi's Island DS Vabbè Ce ne saranno altre di stelle No? Sarebbe bello Se effettivamente il primo livello Che facciamo al 100% Fosse un castello Per più ci blocco Cerchio arancione Per far muovere i blocchi Sotterra Sorridenti Che blocchi sorridenti? Ah Tipo così? No Mi sa che devo tenerli in movimento A sto punto Ok Strana meccanica Please non uccidermi Ok No 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 Sta buono Non devo tenerlo fermo A quanto pare Perché devo Comunque prendere qualcosa lì Quello blu Perché sono color diverso Grazie Non so cosa c'è lì là Ok Paura di rimanere schiacciato Come non so cosa Ah Questi blocchi Non si attivano Ok 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 Eh oh Io non sapevo Che farci Con quelli Ah ah Perché Due cose Addirittura Maggiorno Autore Giornals No 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 e dice qualcosa o è solo una scorciatoia stupida sì è solo una scorciatoia mi ricordo che lo facevano tipo nell'ultimo mondo dell'origine Yoshi's Island una cosa così pedane più questi oh che cacchio tra l'altro ho mancato comunque un po' di cose niente, te lo lasciamo quello che volevo dire e entriamo grazie sei arrivato fin qui? ma inutile i vtc di fagilizio lo renderanno imbattibile sì per qualche motivo li trasforma le cose con un martello adesso ok se per qualche motivo il primo boss è un cavolo di pianta di fagioli eeeh sono già riuscito finito? no non è finito ah forse devo farlo due volte ok mi ha ancora una? sì sì è finito e appassito ok 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 Congratulazioni, hai sbloccato un nuovo minigioco per due. Ok, siamo arrivati nel mondo 2, ma comunque lo faremo la prossima puntata perché qui vi viene tutto, noi c'è la prossima, grazie per il sito di questo audio e arrivederci a tutti quanti, ciao ciao!